Quali sono i principali indirizzi di governo che la Quinta Commissione in questa risoluzione ha proposto alla Giunta regionale? Ci sono tre aspetti sui quali vogliamo soffermarci. Uno è quello che attiene al governo della domanda, che vogliamo rendere più appropriata e soprattutto una domanda per prestazioni sanitarie che sia distinguibile tra screening e tra prestazioni urgenti. Il secondo aspetto riguarda il tema dell'offerta che va incrementata soprattutto per la diagnostica in tutto il territorio regionale anche tramite accorti di confine per evitare la mobilità passiva. E il terzo aspetto è quello delle prescrizioni che dobbiamo rendere più facili per cui probabilmente l'idea è di integrare il CUP ai nuovi studi dei medici di famiglia che ci saranno presso le prescrizioni.